Nell'area montuosa, non solo nella Carnia, ma anche nelle vallate del ferro, la Val Canale, si tengono molte feste popolari. Alcune sono tradizionali, vale a dire risalgono a molti secoli fa, altre invece sono sorte più recentemente magari come elaborazione di qualcosa di già esistente. Ci sono feste che prendono lo spunto da alcuni prodotti o da alcuni particolari momenti dell'anno, come quello del ritorno delle mandrie, delle greggi o la partenza di queste, altre si rifanno al raccolto delle mele, il miele, le castagne, il latte e così via. Altri ancora invece sono legati a particolari momenti dell'anno. Ce ne sono anche di molto citate, di molto originali, come a Paolaro per esempio quella della Feminate, che è una specie di strega, una specie di donna che viene bruciata ed è una festa dei coscritti. I coscritti hanno avuto un ruolo molto importante, non per il fatto che stavano per partire a fare il militare, ma proprio perché è un'aggregazione giovanile che nel nome di coloro che sono nati uno stesso anno facevano scherzi, si trovavano, ma anche avevano un ruolo sociale ben preciso, che era quello del passaggio da un'età più giovanile all'età adulta, all'età di essere uomini a tutti gli effetti. Ma poi ci sono feste, lo stesso che si collegano alla tradizione, legate a particolari momenti. Per esempio c'è la festa che riguarda le zucche, questa si fa dalle parti di Venzone, che sono feste magari di impianto recente, ma che tante volte si rifanno a tradizioni molto antiche, come quella della presenza della zucca, che recentemente è stata banalizzata in Halloween, ma che anche da noi aveva una sua pregnanza soprattutto nel periodo o della raccolta di questi prodotti oppure nel periodo legati al ciclo dei morti. Ci sono feste bellissime come quelle legate al Natale, al primo dell'anno, primo dell'anno quando si andava a portare o si va ancora la pace, la buine stelle, oppure i crampus del tarvisiano, queste maschere, questi che ricordano gli esseri dell'aldilà o questi esseri mitici. Ecco, c'è tutta una fioritura di feste che affondano le loro radici nel profondo e anche quelle che recentemente sono state introdotte però hanno sempre una loro base che è molto molto antica.